Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata del forum di notizie, il magazine della Regione Piemonte. Questa puntata è dedicata al tema della cultura e del suo rilancio, un tema suggerito dagli Stati Generali che la Regione Piemonte ha organizzato nei mesi e nelle settimane scorse per cercare di confrontarsi tra le diverse comunità territoriali cercando di individuare le priorità e le possibili soluzioni alla crisi della cultura e trovando anche possibili idee per definire un piano strategico di rilancio. Parleremo di questo tema con gli ospiti che passo a presentare partendo da Francesca Frediani, vicepresidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, nonché vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio, il consigliere Daniele Valle, presidente della Commissione Cultura e consigliere del gruppo Partito Democratico e Marco Grimaldi, presidente del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà e componente della Commissione Cultura. Partiamo dal parlare dei fruitori della cultura, quindi dal pubblico. A vostro avviso quali sono le esigenze del pubblico che il sistema culturale piemontese non riesce ancora a soddisfare e in che modo la tecnologia potrebbe fornire una possibile soluzione? Noi abbiamo lavorato su questo tema in questo anno e sono due i fenomeni che emergono, che possono essere ancora implementati in tutto il sistema piemontese. Uno è un fenomeno che è molto utilizzato all'estero e alcuni club, alcuni circuiti più indipendenti già utilizzano, che è il tema considerato up to you, cioè di iniziare a pensare che la cultura, se vuole diffondersi di più anche in fette di popolazione che hanno subito di più questa crisi e quindi sia verso i più giovani ma anche nelle periferie culturali e sociali delle nostre città, l'up to you permette di dare quanto si ha per una manifestazione pubblica, per un concerto, per un evento e potrebbe permettere in qualche modo di avvicinare tante più persone. Tra l'altro chi lo fa spesso ha una remunerazione più alta di quanto si pensi, cioè in realtà la gente poi che se lo può permettere qualcosina in più lo dà. La seconda tecnologia, e qui parliamo di un processo che secondo me non è così semplice, però si può fare, è quello di dire che più persone vanno a un evento, meno pagano il biglietto. Certo questo vorrebbe dire iniziare con Ticket to One, magari con una sperimentazione proprio regionale, iniziare a pensare che più persone si associano e poi alla fine se sono tante in qualche modo pagano meno e questo fa sì che ognuno è anche interessato a portarsi più gente agli spettacoli. Stiamo parlando di cose sperimentali ma io credo che questo tipo di forum, gli stati generali servono anche per pensare a come sarà la cultura nei prossimi anni. Nel corso del dibattito che abbiamo avuto almeno a Torino, nei tavoli di lavoro che si sono svolti i primi due giorni degli stati generali, è emerso con chiarezza che tutti gli operatori si stanno cominciando a porre il problema di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare gli esperimenti più diffusi riguardano o la costituzione di applicazioni per lo smartphone per conoscere quello che l'operatore culturale sta producendo o ha in programma, dall'altra parte l'utilizzo della risorsa dello streaming per rendere il contenuto fruibile a casa o fruibile in posti sociali diversi da dove il contenuto viene prodotto. Quello che è rimasto interessante invece, a cui molti non avevano pensato nel corso del confronto, è che per la maggior parte si è arrivati a mettere in campo queste tecnologie pensando di raggiungere il pubblico dei più giovani, che sono quelli che hanno normalmente maggior dimestichezza con questi strumenti. Il confronto che invece ha coinvolto anche molte realtà della provincia di Torino, molto marginali, in particolare quelli delle vallate montane, ha fatto emergere come queste tecnologie possono essere la possibilità per incrementare un'offerta culturale altrimenti molto modesta proprio nelle aree marginali della nostra provincia, quindi di offrire qualche cosa a qualcuno che diversamente deve necessariamente spostarsi di molto per poterla raggiungere. In questo, per colmare un eventuale gap tecnologico dovuto all'età, dovuto alla formazione, ci sarà bisogno che ci si attivi in qualche modo perché qualcuno che questa tecnologia la padroneggia la possa mettere a disposizione delle piccole comunità locali dove non necessariamente tutti hanno gli strumenti o la formazione necessaria per padroneggiarla. Il pubblico della cultura sente sempre più il bisogno di organizzarsi in autonomia, quindi di avere a disposizione una visione chiara dell'offerta culturale e poter organizzare anche dei percorsi in autonomia, quindi scegliere i propri eventi e creando dei percorsi personalizzati in modo da potersi gestire magari un'intera giornata anche in ambito familiare, quindi capire dove sia possibile portare anche magari i figli, dove ci siano delle offerte magari più rivolte ai giovani piuttosto che agli anziani. Quindi bisognerebbe che la Regione, come ente pubblico, promuovesse proprio la raccolta delle informazioni e la messa in rete di queste informazioni in modo chiaro e facilmente fruibile dal pubblico. Sicuramente la tecnologia poi può essere utilizzata anche per cercare di attrarre il pubblico più giovane, quindi deve essere proprio uno strumento che deve passare direttamente da coloro che producono cultura e arrivano direttamente ai giovani utilizzando anche possibilmente il loro linguaggio, passando anche attraverso le scuole ovviamente, anche dai tavoli degli stati generali è emerso proprio il bisogno di interagire col sistema scolastico anche per andare incontro alle esigenze di quanti non possono accedere alla cultura proprio per i limiti economici, quindi cercare di integrare il sistema in modo che le famiglie che da sole non avrebbero le possibilità di far avvicinare i giovani alla cultura possano farlo con il sostegno per l'appunto dell'ente pubblico. Un problema cruciale per ciò che riguarda la programmazione culturale è quello delle risorse. Secondo voi quali sono gli strumenti che dovrebbero essere messi in campo per promuovere l'impresa culturale e quindi sostenere l'occupazione in questo settore? Beh, intanto la cultura ha vissuto ovviamente di un trentennio in cui anche le leggi che stiamo cercando di riformare, rivedremo nei prossimi mesi in commissione, legavano diciamo il rapporto fra pubblico e privato con un rapporto di contributo che può essere indirizzato solo a soggetti no profit e associazioni. L'impresa culturale purtroppo non è codificata ancora sul livello nazionale, noi però qualcosa potremmo farlo, ci siamo detti che potremmo anche farlo nelle prossime finanziarie, che è quello per esempio di adeguare la tassazione a un livello diverso, cioè io credo che un'impresa culturale non abbia senso che paghi la stessa IRAP delle imprese normali, quindi una delle cose che potremmo iniziare a prevedere intanto è codificarle, metterle in un registro più ampio e poi sgravarli per esempio della tassazione regionale o farle diventare come i soggetti no profit, perché già non possono prendere contributi, che senso ha che paghino anche. Poi ci sono tanti altri strumenti, io credo che per esempio il mercato dell'alcol ha proliferato anche grazie a un'offerta culturale che spesso è nei luoghi che tengono aperte realtà e territori anche quando i grandi luci, i riflettori degli grandi eventi sono spenti. Ecco per esempio io credo che se una parte di accise sull'alcol finisse direttamente nella cultura credo che sarebbe molto giusto, così come credo che per l'offerta turistica noi dovremmo trovare il modo di fare un fondo unico di tutte le tasse turistiche, anche quelle per esempio non solo degli alberghi, penso a tutto il tema dei pullman in entrata nella nostra regione, cioè di quel turismo mordi e fuggi che spesso non restituisce alle città abbastanza, ecco io credo che se riuscissimo a mettere assieme la tassa turistica e magari quella dei pullman, quello sarebbe un altro buon canale di finanziamento per la cultura. Io penso che da un canto il compito dell'ente pubblico sia quello di promuovere il consumo di cultura, questo si può fare invogliando le famiglie o i singoli a comportamenti differenti, un po' più consapevoli e ha una maggior curiosità intellettuale e culturale. Un esempio che io trovo positivo in questo, che è proprio recente, è quello del bonus cultura dato a tutti i miei diciottenni, perché offre sì 500 euro di spesa su quel comparto, ma soprattutto li invita a informarsi, interessarsi e, come dire, la scommessa e che poi questa curiosità gli resti anche negli anni successivi. Dall'altro tocca invece agli operatori culturali spostarsi ed andare a promuovere la loro offerta anche in luoghi non convenzionali, cioè non aspettando l'utenza nei luoghi tradizionali, come possono essere i teatri o gli istituti di cultura. E in questo gli enti pubblici, soprattutto quelli locali, hanno fatto molto per provare a fare un po' di commissioni fra offerta culturali e luoghi non tradizionali. L'altra esigenza forte è che è emersa proprio con, direi, con prepotenza dagli operatori in occasione degli stati generali e la necessità da parte degli operatori di formarsi sull'impresa. L'impresa culturale già è vista con mezzo sospetto dal mondo imprenditoriale proprio perché non si prende sul serio come un'impresa seria, come un'impresa che non fa previsioni, come un'impresa che non ha un orizzonte lungo di programmazione. A questo si ovvia anche formando gli operatori stessi che arrivano a operare in quel comparto per altre strade, ma che poi devono necessariamente formarsi e sono loro i primi a essere molto consapevoli da questo punto di vista. Devo dire che in diversi hanno manifestato questa esigenza. A questa esigenza l'ente pubblico può, almeno in parte, costruire una risposta. L'ente pubblico dovrebbe promuovere il vantaggio del fare sistema, quindi far capire a tutti gli operatori, siano essi operatori culturali, sistema turistico, del sistema commerciale, che ci può essere un reale vantaggio dalla collaborazione fra tutti. Quindi far capire che se si riesce a creare, ad esempio, un'immagine coordinata di un certo territorio, tutti ne possono trarre vantaggio e può esserci un buon ritorno economico. L'altro aspetto su cui sicuramente l'ente pubblico può fare molto è appunto valorizzare le professionalità, il che significa dare a tutte le persone che lavorano nel mondo culturale la giusta dignità e cercare di contribuire al loro percorso formativo, quindi fare in modo che ci siano dei percorsi formativi ben precisi, ben riconoscibili, e poi valorizzare il loro apporto proprio a livello di impatto con il pubblico e di valorizzazione dei beni culturali. Quindi nel momento in cui il cittadino arriva, ad esempio, in un sito per effettuare una visita, deve avere di fronte del personale formato disponibile e quindi saper riconoscere che in quel caso c'è una figura professionale ben definita e giustamente, ad esempio, retribuita e valorizzata nella sua funzione. Dagli Stati Generali è emersa più volte una criticità denunciata dagli operatori stessi. Gli operatori si sentono soli, le reti non funzionano, non sono efficaci e invece c'è bisogno di trovare dei luoghi dove confrontarsi scambiando idee e informazioni. A vostro avviso, quale dovrebbe essere il ruolo della regione o in generale di un ente pubblico per favorire la costruzione di un vero e proprio sistema culturale piemontese? Di sicuro negli anni, proprio anche per un po' per il calo di risorse economiche, molti enti locali hanno iniziato a cambiare l'atteggiamento e a dare un po' più di servizi. La regione, essendo un ente che dovrebbe pianificare più che gestire direttamente le singole attività culturali delle associazioni e delle imprese, dovrebbe in qualche modo promuovere questo cambiamento e farlo diventare però parte di una regia unica. Di sicuro i tentativi fatti da Piemonte dal Vivo, dal progetto Hangar, mirano già in parte a fare questo salto di qualità. Certo è che il problema più grosso intanto è il tema della trasparenza e quindi della codificazione per tutti chiara di quelli che sono gli strumenti, di quando sono i bandi, di quando sono certi tipi di scadenze. Due, il tema della promiscuità che deve essere promossa dall'amministrazione. Cosa intendo per promiscuità? In questi anni di crisi la cultura è riemersa nei luoghi più impensabili, soprattutto in grandi città come Torino. Cioè dentro i bagni pubblici, dentro il sociale, dentro il doposcuola, nello sport. Ecco la cultura deve fare un salto di qualità non solo nella rete fra gli operatori ma in quello che c'è fuori, anche perché gli unici che possono difendere la cultura sono gli stessi cittadini e questo possono farlo però se la cultura si rende anche più accessibile di come è stata negli anni passati. Terza cosa, io credo che il problema più grande è anche quello delle professionalità. Cioè il problema non è solo fra operatori ma è fra professionisti e anche questa distinzione che purtroppo questo paese non viene fatta fra chi lo fa in termini amatoriali, chi lo fa magari perché sta iniziando e quindi non ha ancora deciso se diventerà un professionista o no e i professionisti. Ecco che io credo che queste tre reti in qualche modo possono essere promosse soprattutto alla conoscenza di questi operatori però se si ha voglia anche lì e noi riusciremo a farlo a cambiare anche il sistema legislativo che c'è dietro anche per arrivare in qualche modo a far sì che ognuno abbia la sua dignità in questo sistema culturale. Io ho notato che questa esigenza durante i stati generali è emersa con tale forza che in alcune province addirittura gli operatori hanno scelto di continuare a trovarsi informalmente con nuove riunioni degli stati generali della cultura della loro provincia indipendenti dall'organizzazione regionale. Quindi è un'esigenza molto forte. Distinguerei tra i compiti che ha la Regione e i compiti che hanno invece le amministrazioni locali perché sicuramente l'integrazione fra soggetti della stessa categoria, dello stesso comparto sparsi su tutta la Regione spetta sicuramente alla Regione. Il coordinamento tra le attività e il tentativo di metterle in rete fra operatori di settori differenti spetta principalmente alla comunità locale e all'amministrazione locale. La Regione però che cosa deve fare? Non deve penalizzare questi sforzi ma deve valorizzarli. Cosa che invece nei nostri mandi, nei nostri strumenti amministrativi spesso era digerita con difficoltà perché è difficilmente categorizzabile il progetto X o il progetto Y in quella categoria piuttosto che nell'altra. Dopodiché, certo, si possono poi mettere a disposizione anche altri strumenti. Io penso allo strumento di cui ci siamo dotati per l'offerta turistica di un portale dove tutta l'offerta di qualunque tipo è messa a disposizione del turista che si può costruire il suo programma. Lo stesso la Regione potrebbe promuoverlo sul comparto culturale o addirittura integrare i due strumenti insieme. Ma principalmente questo lavoro di tessitura è un lavoro che va fatto con le persone e che quindi io affiderei principalmente a un ruolo di regia o regionale o locale a seconda delle situazioni e a noi sta il compito in particolare di non frapporre ostacoli burocratici o legislativi al loro libero svilupparsi. Per creare un sistema veramente aperto che non dia l'impressione di una chiusura servono ascolto e trasparenza. Quindi la Regione deve trovare dei canali attraverso i quali chiunque possa avere accesso alle informazioni e possa dare e ricevere comunicazioni e informazioni. Quindi è importante che ci sia un'apertura verso tutti gli operatori, che non ci sia l'idea che esistano dei canali preferenziali. La trasparenza poi è importante perché bisogna far capire come vengono utilizzati i fondi, a chi sono destinati e quali sono le ricadute. perché finché non ci sarà effettiva conoscenza nell'impiego dei fondi ci sarà sempre da parte di qualcuno l'idea che ci siano dei privilegiati e che non a tutti siano garantite le stesse opportunità. Bene, vi ringrazio. Abbiamo terminato la tavola rotonda e nel ringraziare i gentili ospiti intervenuti ricordo che l'intera trasmissione sarà visibile a breve sulla social tv del Consiglio regionale all'indirizzo www.crpiemonte.tv e sarà anche disponibile come contenuto multimediale nella app dell'ultimo numero di notizie che uscirà a fine dicembre. Grazie ancora.